Benvenuti agli amici di Assi Sportivo, siamo qui con il coach Felice Carano. L'Olimpica domina sul proprio parquet e continua la striscia positiva arrivando a quota 10 contro il Vieste. Cosa ne pensi della partita? Questa è stata una grande partita, ho detto ai ragazzi che finalmente siamo tornati quelli della prima gara con l'Altamura. Dopo gare un po' opache, soprattutto a livello di difesa, e finalmente oggi abbiamo dimostrato quello che possiamo essere, quello che possiamo diventare, quello che è il gioco che possiamo esprimere. Buona intensità in difesa, anche Jolico, abbiamo visto che lo cercavano molto i compagni, infatti molti dei propri canesti sono stati frutto di assist dei suoi compagni. Sì, finalmente abbiamo trovato un equilibrio, forse il giusto equilibrio non lo so, però abbiamo trovato un equilibrio che ci ha permesso di giocare una bella partita come quella di oggi, io dico a loro che per giocare grandi attacchi bisogna fare una grande difesa, e oggi dal secondo quarto fino alla fine siamo stati strepitosi in difesa, non abbiamo proprio concesso nulla al Vieste. Seconda partita giocata da Martin Wolf, un commento sulla prestazione di questo giocatore? Martin, due partite, è un professionista, deve entrare ancora in quello che è la nostra mentalità, anche se per lui sarà molto semplice, si è visto oggi in campo, al contrario dell'Angiulli Bari, in cui è entrato, ha preso tanti tiri, ha fatto una grande difesa, però nelle rotazioni ancora non entrava bene. Oggi è stato anche lui strepitoso, ha preso grandi rimbalzi, ha preso i giusti tiri, qualcuno non è entrato, però lui anche in questo deve migliorare perché è appena arrivato e deve prendere confidenza col canestro, con gli amici e tutto, è stato un grande acquisto per noi. Prossima partita un avversario barese che non ha ancora portato in casa una vittoria, forse la prossima partita la fronterete con maggiore sicurezza? Beh no, assolutamente no, il Bulls Bari è una buona squadra, aveva molti infortuni e quindi non ha giocato al meglio le partite in casa che ha già disputato, però noi arriveremo lì con questa determinazione, certo sarà difficile anche per i Bulls Bari fare la loro partita, però noi ogni partita va giocato, adesso pensiamo ai Bulls Bari, prepariamo la partita e andiamo lì con la testa giusta come quella di oggi per affrontare una buona squadra. Grazie